Vaccino anti-covid in Calabria, somministrazioni al 72,1%, consegnate prime dosi prodotte da Moderna. Sono 45.182 su un totale di 62.680 disponibili le dosi di vaccino anti-covid attualmente somministrate in Calabria, lo riferisce l'Agenzia Italiana del Farmaco. La Regione, con il 72,1% di inoculazioni effettuate, mantiene la penultima posizione nella gradatoria nazionale, precedendo ancora la Liguria, 70,1%, che ha avuto assegnate un maggior numero di dosi, 77.540. Ed ieri intanto la distribuzione in Calabria da parte dei militari del Regimento, aviazione, sirio, distanza alla mezzaterme, delle prime oltre 2.000 fiale del vaccino, messo a punto dalla società Moderna, 2.100 per l'esattezza, che si aggiungono a quelle di Pfizer-BioNTech, in gran parte già utilizzate nella prima fase di immunizzazione. Le dosi giunte con un Corriere Espresso sono state distribuite in quote uguali agli ospedali di Castrovillari, la mezzaterme e Merito Portosalvo. Altre ne seguiranno nei prossimi giorni, da distribuire in altri presidi ospedalieri della Regione. L'emergenza sanitaria nel Catanzarese, alunno contagiato, chiusa la materna a Torre di Ruggero. Torna la preoccupazione del Covid a Torre di Ruggero. Ieri il sindaco del piccolo borgo, Mario Barbieri, ha emesso ordinanza di chiusura della scuola dell'infanzia, per via di un bambino risultato positivo al coronavirus. L'edificio che ospita la materna di Via delle Grazie rimarrà chiuso a tempo indeterminato, cioè sino a quando non verranno eseguiti tamponi ai bambini che frequentano la scuola e al personale docente e ausiliario. Tamponi molecolari che hanno portato a tre il numero dei residenti positivi, tutti riconducibili alla famiglia del piccolo che frequenta la scuola materna. Il sindaco Mario Barbieri si è messo a lavoro assieme ai sanitari del Dipartimento di Prevenzione dell'azienda sanitaria provinciale, per ricostruire il corridoio sanitario necessario per individuare il nuovo focolaio. Torre di Ruggero è stata per due volte dichiarata zona rossa dalla Regione Calabria e ha registrato due decessi da coronavirus, di cui uno legato alla Domus Aurea di Chiaravalle. Per questo motivo sul fronte amministrazione comunale si sta lavorando per scongiurare una nuova ondata in un paese già segnato dall'epidemia, anche dal punto di vista organizzativo. Per domani i medici del Dipartimento Prevenzione hanno dato disponibilità a spedire sul territorio i sanitari per eseguire i primi tamponi ai bambini della materna. In tutto saranno 30 a sottoporsi a tampone, con dentro il personale ausiliario e le maestre che hanno avuto contatto con il bambino positivo. Stando ad alcuni indiscrezione, i contagi potrebbero essere limitati, in quanto alla ripresa delle attività didattiche sono stati pochi i genitori che hanno scelto di mandare i figli alla materna dopo la pausa natalizia. Un dato certamente non di poco conto, perché questo potrebbe aiutare a contenere il propagarsi del contagio, sanificazione straordinaria di tutte le scuole e il ritorno in classe, legato all'esito dei tamponi molecolari in programma per la giornata di domani. Chiuse le scuole di ogni ordine e grado nel territorio del comune di Davoli, a partire da ieri e fino a nuove disposizioni, sono state sospese le lezioni in presenza. Lo ha deciso un'ordinanza firmata dal sindaco Giuseppe Papaleo, dopo che un dipendente scolastico in servizio nel plesso Gregoraci è risultato positivo al covid da un test rapido. In attesa che il dipendente si sottoponga al tampone molecolare, che potrà o meno confermare la positività al virus, è sentito anche il dirigente dell'istituto comprensivo, il sindaco in via precauzionale e per la tutela della salute, ha disposto la sospensione della didattica in presenza e ha dato mandato al responsabile dell'ufficio tecnico perché si proceda all'igienizzazione e alla sanificazione degli ambienti di tutti i plessi scolastici. Complessivamente a Davoli la situazione epidemiologica può definirsi buona, con la presenza al 30 gennaio scorso, quando è stato fornito l'ultimo aggiornamento da parte dell'amministrazione di 4 persone positive e 3 in quarantena. Intanto per il prossimo 6 febbraio è prevista una giornata di screening a cura della Messiericordia di Soverato, in collaborazione con il Comune di Davoli, che si svolgerà nel centro polifunzionale di Via Pitagora. Il costo per il tampone rapido è di 14 euro per i residenti e di 19 euro per i non residenti. Sono due i bambini della scuola primaria del quartiere Martelletto di Settingiano risultati positivi al Covid. La positività di un alunno che non ha fratelli o sorelle frequentanti altri plessi scolastici del territorio è emersa a conclusione dello screening eseguito, previ accordo e intercorso tra il Dipartimento di Prevenzione dell'ASP di Catanzaro, la direzione dell'Istituto Comprensivo Marazzitti di Marcellinara e l'amministrazione comunale di Settingiano, lo scorso sabato presso i locali della locale Proloco. L'attività sanitaria è stata disposta al fine di prevenire la diffusione del virus nel territorio, in seguito alla positività emersa nei giorni precedenti di una maestra titolare delle attività didattiche nelle classi 2A e 3A della scuola primaria del quartiere settingianese. Una seconda positività è stata riscontrata su un'alunna frequentante la seconda A, sottoposta il giorno prima a tampone presso una struttura privata, unitamente agli altri componenti di nucleo familiare. Compreso una sorella che frequenta la scuola secondaria di primo grado del centro storico di Settingiano, per i quali è stata accertata la negatività. Sono stati attivati comunque tutti i protocolli previsti nei confronti dei familiari dei due piccoli alunni risultati positivi. Con l'attività di screening effettuata dagli operatori dell'ASP di Catanzaro, sono stati sottoposti alle seduzioni di tamponi usati i 21 alunni frequentanti le classi seconda e terza A, sei maestre e due collaboratrici scolastiche in servizio nel plesso di Martelletto. Ancora sospese comunque le attività didattiche nella scuola del quartiere, rimane ancora chiusa in attesa degli esiti dei tamponi eseguiti ieri su richiesta urgente dal sindaco di Settingiano, Rodolfo Iozzo, sulle rimanenti quattro maestre che, pur non svolgendo attività didattica nelle classi interessate, potrebbero eventualmente essere entrati in contatto con le insegnanti già monitorate. Calabria, in zona gialla, riaprono luoghi della cultura anche Museo Archeologico Lametino. La Calabria è passata da zona arancione a zona gialla, così come indicato dal MIBACT. Hanno riaperto i luoghi della cultura afferenti alla direzione regionale Musei. Le strutture saranno settimanalmente accessibili al pubblico dal lunedì al venerdì. Permarrà la chiusura nei giorni di sabato e domenica. Nel dettaglio, gli orari di apertura dei singoli luoghi della cultura, resi noti dalla direzione regionale Musei Calabria, sono Museo Archeologico Lametino di Lamezia Terme, Catanzaro, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 16.30, ultimo ingresso, ore 16. Museo e Parco Archeologico Nazionale Scolacium di Roccellette di Borgia, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 16, ultimo ingresso, ore 15. Galleria Nazionale di Cosenza, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17.30, ultimo ingresso, ore 16.30. Museo Archeologico Nazionale di Crotone, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 20, ultimo ingresso, ore 19.30. Parco Archeologico Nazionale di Capocolonna, Crotone, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 16.40, ultimo ingresso, ore 16. Fortezza, le Castella di Isola Caporizzuto, lunedì, mercoledì, venerdì, dalle 14 alle 19, ultimo ingresso 18.30 Martedì, giovedì, dalle 8 alle 13, ultimo ingresso 12.30 Museo archeologico statale Vito Capialbi di Vibo Valencia, da lunedì al venerdì, dalle 9 alle 14, ultimo ingresso 13.30 Museo statale di Mileto, lunedì, mercoledì, venerdì, dalle 8.30 alle 13.30, ultimo ingresso ore 13 Martedì, giovedì, dalle 8.30 alle 17, ultimo ingresso 16.30 La Cattolica di Stilo, Reggio Calabria, lunedì, martedì, mercoledì, dalle 8 alle 14, ultimo ingresso 13.45 Giovedì, venerdì, dalle 12 alle 18, ultimo ingresso 17.45 Museo e parco archeologico dell'antica Kaulon di Monasterace, da lunedì al venerdì, dalle 9 alle 19, ultimo ingresso 18.30 Parco archeologico nazionale e complesso museale Casino Macri di Locri, da lunedì al venerdì, dalle 9 alle 16.40 Ultimo ingresso 15.40 I musei e luoghi della cultura che rimarranno momentaneamente chiusi al pubblico per adeguamento alle normative anti-Covid Museo archeologico statale Metauros di Gioia Tauro, Museo archeologico nazionale di Capocolonna, Museo archeologico statale di Palazzo Nieddu del Rio di Locri Museo e parco archeologico Archeoderi di Bova Marina, Chiesa San Francesco di Gerace Per Teleionio, Anna Maria Colabraro Covid, Regione Calabria sospende tasse 2021 per ristoranti e imprese turistiche L'Aggiunta della Calabria, su proposta del Presidente Nino Spirli, ha approvato la delibera che sospende i termini di versamento della tassa regionale 2021 per ristoranti, bar, attività ricettive alberghiere ed extra alberghiere e agenzie di viaggio Con la delibera approvata oggi, si dispone che i versamenti sospesi potranno essere effettuati senza applicazioni di sanzioni e interessi entro il 30 settembre 2021 La sospensione non impedisce il versamento volontario alla scadenza naturale della tassa né il provvedimento consente il rimborso di quanto eventualmente già versato La decisione è stata adottata dall'Aggiunta regionale anche in seguito alla riunione avvenuta lo scorso 29 gennaio tra il Presidente Spirli e i rappresentanti regionali delle associazioni di categoria nel corso della quale è emerso che le attività economiche, soprattutto quelle del comparto turistico sono state gravamente danneggiate dalle misure restrittive imposte dal Governo nazionale al fine di contenere l'emergenza Covid-19 La Mezzi ha inaugurato l'anno giudiziario del distretto di Catanzaro in trocaso, nonostante il Covid, anno fruttuoso Alla presenza del Ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede si è tenuta alla Mezzia presso l'Aula Bunker di Fondazione Terina l'inaugurazione dell'anno giudiziario del distretto di Catanzaro un appuntamento di grande significato che arriva in un momento particolarmente intenso dal punto di vista dell'amministrazione della giustizia per via di molti procedimenti in corso tra i quali il Max Processo Rinascita Scott che si tiene proprio alla Mezzia e le inchieste contro la criminalità organizzata coordinate dalla DDA diretta da Nicola Gratteri che in questi giorni hanno coinvolto anche esponenti di rilievo della politica calabrese e nazionale a relazionare il Presidente della Corte d'Appello Domenico Introcaso che ha fatto riferimento al momento di crisi generale e grande di riflessione dovuto all'emergenza epidemiologica in corso Caccia, stagione chiusa in Calabria il 31 gennaio Ispra dice no a proroga fino al 10 febbraio La caccia in Calabria si è chiusa il 31 gennaio scorso e non ci saranno proroghe Lo comunica il Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari della Regione Calabria in seguito al parere negativo dell'ISPRA Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale circa il posticipo fino al 10 febbraio dell'attività venatoria per alcune specie In data 28 gennaio 2021, si legge nella nota, l'ISPRA ha fatto pervenire il proprio parere in riferimento alla richiesta avanzata dal Dipartimento in data 5 gennaio 2021 in merito alla possibilità in considerazione dell'emergenza Covid di prolungare l'attività venatoria per le specie Colombaccio, Gazza, Cornacchia, Grigia, Yandaia fino alla data di chiusura generale della caccia fissata il 10 febbraio 2021 Secondo il citato parere, non può considerarsi ammissibile il posticipo al 10 febbraio in quanto si verrebbe altrimenti a protrarsi l'arco temporale massimo di caccia della specie in questione, oltre i termini consentiti dell'articolo 18,2 della legge numero 157 barra 92, così come modificata dalla legge numero 96 barra 2010 Pertanto, in considerazione del richiamato parere negativo espresso dall'ISPRA continua la nota, si è ritenuto necessario annullare la deliberazione di giunta regionale numero 9 del 28 gennaio 2021, avente ad oggetto calendario venatorio annualità 2020-21 Modifiche e integrazioni con la quale si era inteso prolungare il periodo di caccia per le specie di Colombaccio, Gazza, Cornacchia, Grigia, Yandaia dal 1 al 10 febbraio 2021 In considerazione di ciò, tenuto conto del parere sfavorevole dell'ISPRA al posticipo della chiusura della caccia al 10 febbraio 2021 per le specie citate l'attività venatoria per l'annualità 2020-21, spiega infine il Dipartimento, si è conclusa il 31 gennaio 2021. La presente, al fine di evitare, possano essere indottine e nerrone valutazioni tanto i cacciatori quanto gli organi di vigilanza Per Teleionio, Anna Maria Colabrano Martino, Capistrano, espande il proprio centro urbano nella zona piano di rollo Parla di svolta storica il sindaco di Capistrano, Marco Martino soddisfatto per aver iniziato a valorizzare il nostro patrimonio con 3.200 metri di illuminazione a LED lungo il nostro territorio montano dal centro urbano sino in tutto piano di rollo Il primo cittadino si riferisce ad un progetto finanziato interamente dal Ministero per un importo di 100.000 euro e quindi a costo zero per il Comune e spiega che verrà installata la palificazione a corpi luminosi LED coprendo grossa parte della nostra area montana Dunque una svolta suggestiva che inviderà i cittadini capistranesi a non urbanizzare una zona fantastica che merita di essere valorizzata L'immissione della palificazione, sostiene Martino, avverrà in primavera garantendo così un importante momento di sviluppo nelle zone agricole che sino ad ora non hanno potuto godere di servizi di rilievo Contiamo, conclude, di costruire a breve un patrimonio montano con attrattive per i turisti che siamo convinti una volta create le giuste condizioni sapranno apprezzare e frequentare Olivadi, delibere sul bilancio, il TAR stoppa due consiglieri I giudici del Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro Presidente Giancarlo Pennetti, Francesco Tallaro, primo referendario e Francesca Goggiamani, estensore, hanno dichiarato l'improcedibile il ricorso proposto da Adele Corasaniti e Antonio Catanzariti entrambi consiglieri di minoranza si erano opposti alle delibere di Consiglio Comunale adottate dal Sindaco Nicola Malta nella seduta del 22 dicembre scorso le delibere prese di mira riguardavano la salvaguardia degli equilibri con assestamento generale del bilancio 2020 e il documento unico di programmazione per il triennio 2020-2022 in più nel ricorso era andata a finire la delibera che riguardava il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari delibere propedeutiche per mantenere il Consiglio Comunale in carica i due consiglieri di minoranza al Tar si erano rivolti per il tramite dell'Avvocato Gregorio Greco ed avevano eccepito la tardiva comunicazione di convocazione del Consiglio che non gli avrebbe consentito di partecipare all'Assemblea Municipale il Comune tramite l'Avvocato Fabrizio Laudaddio si è difeso sostenendo il fatto che le delibere impugnate erano state riapprovate nella seduta del 24 dicembre proprio alla vigilia di Natale quindi per carenza di interesse e ricorrenti hanno concluso per la cessazione della materia del contendere ed hanno insistito per il riconoscimento delle spese di giudizio Fratelli d'Italia approva un nuovo codice etico bandaferro, regole molto severe anche per le candidature alle regionali in Calabria l'approvazione da parte della Direzione Nazionale su proposta della Presidente Giorgia Meloni del nuovo codice etico di Fratelli d'Italia che dovrà essere sottoscritto da tutti i tesserati è un segnale di grande attenzione ai temi della trasparenza e della difesa della legalità lo afferma in una dichiarazione il deputato di Fratelli d'Italia Vandaferro coordinatrice del partito in Calabria il nuovo codice etico, aggiunge Vandaferro prevede alcuni principi inderogabili che devono essere condivisi da tutti gli iscritti a partire dal rifiuto di favoritismi di promesse in debite e del perseguimento di interessi particolari ancor di più se posti in essere a fini elettorali o di raccolta di consenso personale chi ricopre ruoli ed incarichi in Fratelli d'Italia ha il dovere di improntarli alla trasparenza della lealtà, onestà, alla coerenza e al rispetto il codice etico, continuaferro prevede per i candidati di Fratelli d'Italia tra l'altro l'impegno a comunicare eventuali situazioni personali di rilevanza penale o erariale o di conflitto di interesse sia preventivamente che per tutto il corso dell'eventuale incarico ricoperto e a rassegnare le proprie dimissioni in caso di coinvolgimento in vicende giudiziarie o condotte conclamate incompatibili con il prestigio e l'integrità richiesti per ricoprire l'incarico regole molto severe che saranno seguite anche nella definizione delle candidature per le prossime regionali in Calabria che vogliono rafforzare la tutela dell'immagine di un partito che ha nella legalità uno dei propri valori fondanti e soprattutto rappresentare una ulteriore garanzia di affidabilità per i cittadini che decidono di darci fiducia per Teleionio Anna Maria Colabrano tentata rapina ad ufficio postale del Regino tre arresti questa notte i carabinieri con il supporto in fase esecutiva di personale dello squadrone riportato Cacciatori Calabria e del nucleo Cinofili di Vibo Valenza hanno dato esecuzione a tre misure di custodia cautelare emesse dal Tribunale di Reggio Calabria nei confronti di soggetti ritenuti responsabili a vario titolo della partecipazione alla tentata rapina commessa ai danni dell'ufficio postale di Rosalì, Reggio Calabria l'1 ottobre 2019 l'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria diretta dal procuratore Giovanni Bombardieri dal vicario Gerardo Dominigliani e dal sostituto Domenico Cappelleri e condotta dai militari della sezione operativa della compagnia Carabinieri di Palmi ha permesso di accertare il ruolo di AL 54 anni FT 29 e GO 30 anni nelle fasi preparatorie ed esecutive della rapina all'ufficio postale in occasione della quale i militari della compagnia Carabinieri di Reggio Calabria riuscirono a trarre in arresto in flagranza di reato tre dei materiali esecutori fondamentale si era mostrato nelle circostanze il tempestivo intervento di un graduato dell'arma effettivo alla stazione Carabinieri di Reggio Calabria principale che si trovava all'interno della filiale e libero dal servizio avuta contezza della commissione del delitto contattò prontamente il 112 subendo anche una colluttazione con uno dei malviventi al fine di evitarne la fuga riportando lesioni guarite in 125 giorni in particolare T. apice del gruppo criminale De Quo si era promurato premurata di trovare gli uomini e i mezzi per l'esecuzione della rapina dimostrando particolare cautela anche durante le conversazioni telefoniche intercettate dai Carabinieri nelle quali nel tentativo di depistare gli eventuali investigatori in ascolto utilizzava sempre un linguaggio criptico come quando ad esempio dava disposizioni per le fasi esecutive della rapina facendo riferimento al rinnovi di patenti di guida presso un inesistente medico di Reggio Calabria l'attività investigativa in esame ha permesso di completare l'intero quadro indiziario a carico di tutti i responsabili della tentata rapina commessa all'ufficio postale di Rosalie Reggio Calabria per sette pregiudicati di cui quattro già tratti precedentemente in arresto nell'ambito dell'operazione organetto dell'ottobre 2020 ed ora ci fermiamo per una breve pausa a tra poco La Mezzia processo rinascita Scott in aula deposizione collaboratore di giustizia Luigi Bonaventura è l'unitarietà dell'andrangheta raccontata attraverso la carica del crimine l'argomento dominante dei primi interrogatori che si sono svolti oggi nel corso dell'udienza del processo rinascita Scott nell'aula bunker di La Mezzia Terme a rispondere alle domande del sostituto procuratore della DDA di Catanzaro Anna Maria Fristaci tra gli altri il collaboratore di giustizia Luigi Bonaventura 49 anni in passato elemento di spicco della famiglia Vrenna Bonaventura di Crotone Bonaventura ha raccontato di avere cominciato a fare parte dell'andrangheta appena nato con la dote di giovane d'onore per diritto di successione poi battezzato Picciotto d'onore camorrista di ferro e di sangue perché aveva commesso degli omicidi sgarrista dovevo prendere la santa ha detto Bonaventura ma nel 2005 mi sono dissociato e il 26 febbraio 2007 ho iniziato a collaborare con la giustizia da libero e senza alcuna condanna nipote di Luigi Vrenna ha detto Uzzirru lo zio Giovanni Bonaventura è stato come un padre per me perché con lui ha condiviso un periodo di guerra di mafia Luigi Bonaventura ha raccontato di essere diventato boss giovanissimo a 30 anni perché agli inizi degli anni 2000 lo zio malato terminale lo aveva designato a capo della consorteria ha riferito di essersi macchiato dei reati di omicidio estorsione rapina narcotraffico all'inizio quando ho deciso di collaborare con la giustizia ha detto Bonaventura non riuscivo a fare i verbali perché non riuscivo a fare i nomi delle persone che dovevo accusare ero figlio di mamma Ndrangheta spiega imbevuto di cultura mafiosa e con gli occhi e ricordi imbevuti di una cultura di odio e faide tra famiglie come la faida che la sua famiglia aveva instaurato con i feudale secondo Bonaventura il crimine è il custode delle regole di Ndrangheta il crimine camminava si spostava perché nel corso degli eventi cambiavano i vertici delle Ndranghete e cambiava la località nella quale si trovava la carica di crimine La cosca Vrenna Bonaventura ha riferito il collaboratore di giustizia è stata autorizzata da parte dei De Stefano di Reggio Calabria negli anni 60 il crimine lo aveva il nonno Luigi Vrenna La cosca Vrenna Bonaventura aveva rapporti anche con le cosche regine come i De Stefano e i Tripodi tanto che Domenico Tripodi venne coperto a Crotone durante un periodo di latitanza Il collaboratore Bonaventura ha parlato anche della figura dell'invisibile rappresentato dall'asso di denari coperto dall'asso di coppe perché deve essere una figura protetta Secondo il collaboratore di giustizia gli invisibili sono tra il mondo delle cosche e altri mondi non sono affiliati e devono restare invisibili una figura nascosta ma utile all'andrangheta che si mette a disposizione e agisce nell'ombra Secondo Luigi Bonaventura all'interno della sua consorteria avevano il ruolo di invisibili Tonino Vrenna e Raffaele Vrenna la parte imprenditoriale della famiglia Tonino Vrenna spiega Bonaventura era figlio del capo Cosca Luigi Vrenna Uzzirru nato fuori dal matrimonio da colei cioè che diverrà la seconda moglie del boss Luigi Uzzirru decise di chiedere di riconoscere il bambino a un cugino omonimo Luigi Vrenna detto capi Ciuciu padre degli imprenditori Raffaele e Gianni Vrenna Tonino Vrenna era nell'edilizia ricorda il collaboratore era uno che sedeva a capotavola in occasione di cerimonie come matrimoni o altre occasioni Rapina alla Sicur Transport chieste otto condanne in appello ha chiesto otto condanne nei confronti degli imputati accusati di avere partecipato alla rapina al cavò della Sicur Transport il sostituto procuratore Paolo Sirlevo con delega quale procuratore generale nel processo di appello contro gli autori del colpo da otto milioni di euro il PG ha chiesto la conferma della condanna di primo grado nei confronti di Anna Maria Cerminara due anni con sospensione condizionale della pena Carmine Frate Pietro dodici anni Matteo Ladogana dodici anni Dante Mannolo quattordici anni Alessandro Morra dodici anni Giovanni Passalacqua quattordici anni Leonardo Passalacqua dodici anni e otto mesi e Pasquale Pazienza dodici anni di reclusione gli imputati sono accusati di rapina aggravata ricettazione e detenzione di armi da guerra tutti reati aggravati dal metodo mafioso la prossima udienza per le arringhe difensive dei legali è stata fissata per il prossimo 8 febbraio nel collegio difensivo gli avvocati Francesco Catanzaro Stefano Nimpo Luigi Falcone Aldo Casalinuovo Salvatore Stajano tenta di accoltellare la compagna dopo litigio quarantanovenne fermato dai carabinieri nel crotonese nella serata tra sabato e domenica a Verzino si sarebbe consumato un'aggressione da parte di un uomo quarantanovenne ai danni della sua compagna il litigio scaturito a seguito di una discussione tra i due sarebbe subito degenerato al vaglio dei carabinieri della stazione di Verzino le motivazioni per le quali l'uomo avrebbe perso il controllo e afferrato un grosso coltello da cucina si sarebbe poi scagliato contro la moglie aggredendola la donna riuscita in parte a difendersi nonostante alcune ferite riusciva a darsi alla fuga raggiungendo i vicini di casa poco dopo un'ambulanza medicalizzata la trasportava presso l'ospedale per le cure del caso l'aggressore quindi scappava nascondendosi nel largo di Verzino per rendersi irreperibile sino al giorno successivo quando i carabinieri lo rintracciavano grazie all'ausilio di un uomo del posto e lo sottoponevano a fermo per il reato di tentato omicidio i carabinieri della compagnia di Ciron Marina effettuavano immediatamente dopo i fatti tutti i primi accertamenti tra cui il sopralluogo della scena del crimine la vicenda è attualmente al vaglio della procura della Repubblica di Crotone trovati con cocaina nel furgone e due arresti nel Catanzarese i carabinieri della stazione di Squillage hanno tratto in arresto due persone con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti i due viaggiavano domenica sera a bordo di un furgone che è stato fermato nel centro abitato di Palermiti nell'ambito degli accertamenti sul rispetto delle restrizioni anti-Covid una volta perquisito l'automezzo i militari hanno rinvenuto nascosto tra i due sedili un involucro con all'interno 50 grammi di cocaina lo stupefacente secondo i militari dell'arma avrebbe fruttato oltre 5.000 euro agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida sono finiti E.C. 60 anni residenti a Palermiti e C.C. 20 anni di Soverato viaggiavano in auto con cocaina su A2 alla Mezia che ha condannato i due fratelli Reggini accusati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti il giudice del Tribunale monocratico di La Mezia Terme Luana Loscanna ha condannato a seguito di patteggiamento alla pena di due anni e otto mesi di reclusione 13.000 euro di multa oltre alle spese processuali e a quelle di mantenimento in carcere due fratelli Reggini i due Pellicano Paolo 23 anni e Pellicano Giuseppe 32 anni di Reggio Calabria difesi dall'avvocato Giuseppe Macri erano stati trovati in possesso di 190 grammi di cocaina e arrestati nel novembre del 2020 dalla Guardia di Finanza di La Mezia Terme sull'autostrada del Mediterraneo sospensione dei termini della durata della misura cautelare in carcere per il termine indicato per il deposito della motivazione sono ancora detenuti in carcere i fratelli Pellicano sono i figli di Giovanni Pellicano detenuto per l'associazione mafiosa in quanto ritenuto affiliato alla cosca di Stefano Tegano di Reggio Calabria